scoppia di nuovo l'amore nella royal family e questa volta è coinvolta la regina camilla cosa è successo camilla è al centro degli amori della royal family invischiata ancora una volta in faccende di cuori dopo la fine del matrimonio che ha sorpreso tutti arriva l'annuncio che spiazza una nuova storia d'amore nella royal family inglese dove la regina camilla dovrà fare i conti con una presenza che sconvolge gli equilibri ebbene sì si terrà un matrimonio ancora uno con un'altra vicenda amorosa destinata a far parlare tutti ecco la nuova coppia della famiglia reale britannica nuova coppia nella royal family centra anche la regina camilla ecco di chi si tratta cuori infranti e nuovi amori sono all'ordine del giorno nella royal family inglese e questa volta una coppia sta facendo discutere molto al punto da coinvolgere anche camilla il protagonista della vicenda è peter phillips ovvero il nipote della regina elisabetta figlio della principessa anna e del primo marito mark phillips il rampollo appena terminato lo storico matrimonio ma ha già dato vita ad una nuova storia d'amore con lei erit sperling 26 anni infermiera pediatrica madre singola e blogger i due sono stati avvistati alla competizione equestre che si è tenuta lo scorso weekend al badminton trials nel south gloucestershire qui hanno potuto incontrare la regina camilla che nel fine settimana ha fatto un salto all'evento secondo il daily mail molto informato sulle vicende royals la nuova fiamma di phillips lavora sia in ospedale come infermiera che sul web come scrittrice freelance i due si sono conosciuti dopo l'addio del nipote della regina alla moglie sposato da anni con autun kelly phillips ha divorziato in modo clamoroso lo scorso aprile è finita anche la storia con lindsey wallace una fonte della famiglia vicina da lo confidò che peter e lindsey hanno preso la difficile decisione di separarsi perché trascorrevano meno tempo insieme a causa degli impegni lavorativi e familiari e ancora gli impegni di lavoro di peter e il lavoro in f1 hanno fatto sì che lui fosse lontano e viaggiasse senza sosta la coppia ha avuto anche due figlie savanna 13 anni e isla 12 fotografate insieme al figlio della principessa anna e la nuova fiamma peter phillips eric sferling non si frequentano da molto a quanto pare sebbene il portavoce della stampa britannica sulla vicenda si è trincerato dietro un no comment sostenendo che si tratti di faccende private chissà se questa nuova storia durerà